Fuori il rombo delle due ruote. Dentro, nella sala congressi del circuito di San Martino del Lago, si parla del futuro del settore dell'automotive che, come dicono gli esperti, sta vivendo un momento di estrema difficoltà. L'occasione è il convegno organizzato dal Comitato Piccola Industria di Cremona dal titolo Start the Future. Di grande attualità il tema dell'elettrico, con tutte le sue criticità in termini di attuazione dei piani di riduzione delle emissioni. 30 sono i milioni di tonnellate di benzina e gasolio utilizzate per il trasporto nel nostro paese nel 2021. E quindi l'interrogativo è, potremo trasportare tutto questo con mezzi elettrici? Non sappiamo con certezza che cosa succederà, se l'elettrico sarà il futuro, se ci saranno altre tecnologie e tutto questo impatta soprattutto nel mondo del lavoro e nelle aziende. Ricordiamoci comunque che tutto questo aspetto e quindi questa forzatura sul passaggio a tutti i veicoli elettrici si inesti in un momento dove c'è una grossa carenza dal punto di vista delle materie prime e questo...